Lo speech in cinque punti. Bene, per poter essere veramente un imprenditore efficace devi saper presentare un tuo progetto con uno speech che ovviamente tocca i cinque punti, quindi dovrai allenarti ad imparare a memoria quali sono i tuoi punti di forza. Di solito in America, ovviamente quando si fanno queste mega riunioni per capire dove dall'altra parte ci sono gli investitori, di qua magari ci sono gli investitori, quindi scusami ci sono le start up che vogliono ovviamente ottenere dei finanziamenti, la cosa importante è la sintesi, quindi devi imparare ovviamente tre tipi di speech che toccano cinque punti esenziali per ogni speech. Lo speech fondamentalmente deve toccare sempre gli stessi cinque punti, ma li devi dividere in tre tipologie, lo speech di dieci secondi, lo speech di cinque minuti e quello di venti minuti. Ovviamente devi toccare in tutti questi tre speech i punti che sono cinque e ti elenco il primo punto, devi far capire che problema risolvi, qual è il tuo vantaggio competitivo per risolvere un problema, come lo risolvi, qual è la strategia per poter risolvere, questo è il punto numero due, quindi qual è la strategia per risolvere questo problema, il punto numero tre è qual è il tuo mercato, il punto numero quattro è quanto budget hai e il punto numero cinque è come è formato il tuo team. Devi prepararti a toccare questi cinque punti prima in venti minuti, poi lo sintetizzi in cinque minuti e poi lo sintetizzi in dieci secondi, perché c'è la leggenda che se tu dovessi incontrare in ascensore un investitore, dal terzo al piano terra, devi saperti dire ovviamente qual è la tua impresa e quindi toccare questi cinque punti per farti dare la business card. Quindi ovviamente è molto molto importante lavorare su queste tecniche che sono americane, sono molto molto efficaci e vi garantisco che può fare la differenza. Noi in Accademia avremo un punto, cioè un'ora dove faremo questi esercizi perché insegnano i ragazzi a fare questo processo che è veramente super strepitoso. Grazie, ciao ragazzi.